La Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato le tre condanne, due ergastoli e una a 30 anni di reclusione inflitte nei confronti dei presunti sicari di due omicidi di mafia commessi a Bitonto nel luglio del 2007. In particolare i giudici del secondo grado hanno confermato la pena dell'ergastolo per il 29enne Giuseppe Di Giacomo Antonio e per il 32enne Salvatore Ficarelli, a 30 anni di carcere invece per il 37enne Giosuè Perrelli, tutti pregiudicati e affiliati al clan Strisciuglio di Bari. I due delitti contestati nel processo sono l'omicidio del 29enne Vito Napoli, ritenuto all'epoca elemento di spicco del clan mafioso Conte di Bitonto, e quello del 29enne Giuseppe Dellino, affiliato allo stesso gruppo criminale degli assassini, e cioè il clan Strisciuglio. Stando alle indagini dei carabinieri coordinati dal PM della DDA di Bari, Renato Nitti, il 20 luglio 2007 di Giacomo Antonio, Ficarelli, Dellino e Giuseppe Ladisa, quest'ultimo morto suicida in carcere nel 2009, avrebbero ucciso a colpi di arma da fuoco Napoli, mentre nel conflitto a fuoco rimase illeso il capo clan Domenico Conte. Alcuni giorni dopo di Giacomo Antonio e Perrelli, su ordine del clan, avrebbero deciso di eliminare Dellino, ritenuto un affiliato inaffidabile. Lo avrebbero sequestrato, portato in un casolare ucciso con un colpo di pistola alla testa e gettato poi il cadavere in un pozzo. I suoi resti vennero infatti ritrovati nel 2013, per questo gli imputati rispondevano anche di occultamento di cadavere.